Nuova denominazione per Laika, il vecchio marchio, si rinnova, nuova corporate, soprattutto dettata anche dai tempi. Dopo 73 anni questa novità? Sì, ci tenevamo, dopo 73 anni di storia abbiamo deciso finalmente di rivedere la nostra corporate cercando di inserire degli elementi che sono parte fondante del nostro essere, del nostro vivere il lavoro. Abbiamo recuperato sicuramente il nostro logo Laika che è rimasto esattamente uguale come un tempo ma abbiamo aggiunto un elemento di passione importante che è amore per il cioccolato perché questo è quello che sentiamo e viviamo tutti i giorni. In più due elementi importanti, uno è la storicità, 1946 il nostro anno di fondazione e il secondo la territorialità, cioè Arona e Italia. Siamo orgogliosi di lavorare in Italia in modo particolare ad Arona. Quindi i prodotti che andranno nei 50 paesi che voi fornite e di tutti i continenti avranno da adesso in poi sia loro che lo spaccio il prodotto col nuovo marchio. Sì, diciamo che sarà un'evoluzione progressiva, ci vorrà del tempo, ci vorranno un paio d'anni perché è un percorso molto lungo e complesso che richiede tanto lavoro ma questa è l'evoluzione e sarà un'evoluzione anche di colore perché il nostro logo Laika diventerà anche più millennial nel senso che ci rivolgeremo anche agli under 40 che hanno gusti, modalità e approcci diversi. Nei momenti di punta 270 dipendenti però i fratelli Saini non si fermano qui, hanno intenzione di ampliare lo stabilimento. Sì, Lucia, Fabio ed io che governiamo l'azienda abbiamo intenzione di crescere perché la crescita è il motore dell'azienda.